Ok, buonasera a tutti, grazie per essere qui a questa terza conferenza di questo ciclo di Scienza più Voci. Allora, innanzitutto ringraziamo per il patrocinio il Comune di Modena e l'Università di Modena e Reggio Emilia. E in più ringraziamo per le collaborazioni il Planetario, il Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari e il Gruppo Modenese di Scienze Naturali. Infine vorrei anche chiedere un applauso per ringraziare una persona che è qui, c'è un'ora della sua presenza, che è il nostro grafico di fiducia. Farei un applauso a Riccardo Pagliani, che da mesi sta lavorando per le grafiche di tutti quanti i nostri eventi. Allora, stasera parleremo di terapia del dolore da due punti di vista. Dal punto di vista di chi lo studia il laboratorio, quindi della ricerca, lo faremo con Veronica Rivi, che lei è una biologa, si sta per laureare alla magistrale in Biologia Sperimentale Applicata, e fa una tesi di neuroscienze, si occupa di terapia del dolore e della correlazione tra il dolore e in particolare il prurito. E poi vedremo una parte un pochino più pratica con Silvia Pavesi, che si è appena laureata in medicina e adesso si sta preparando per affrontare la specializzazione e vorrebbe approfondire l'ambito della ginecologia. Buonasera a tutti, grazie di essere qui questa sera. Iniziamo la nostra conferenza sulla terapia del dolore con un rapido excursus su quello che è stato l'approccio dell'uomo alla terapia del dolore. Le prime fonti storiche risalgono al 6000 a.C., quando gli abitanti della Nancoc Valley del Perù avevano capito che per alleviare la fatica nei campi potevano trarre vantaggio masticando foglie di cocaina e questo promuoveva il rilascio di sostanze analgesiche. Ci spostiamo nel 2225 a.C., siamo nell'antico Egitto e gli egizi avevano compreso che c'erano diverse forme di dolore e avevano quindi distinto tra dolore da bruciore e dolore da coltellamento. E avevano tentato una terapia del dolore basata su oppio e foglie di Oshamus Niger, che era una pianta, anche se in realtà il trattamento vero e proprio consisteva per lo più in rituali magici o forme propiziatorie volte ad allontanare i vari demoni che erano in realtà la causa, secondo loro, del dolore. Arriviamo nel 410 a.C. con Ippocrate, il padre della medicina, che insieme ai suoi discepoli aveva compreso che il dolore è il sintomo di una condizione patologica. Facciamo un grande salto nella storia e arriviamo nel 1664, quando Cartesio, un grande filosofo scienziato, il primatore del Cogito Argosum, aveva avuto una geniale intuizione, ovvero il dolore viene rielaborato a livello del sistema nervoso. Non solo, il dolore, uno stimolo dolorifico, viene rielaborato, passa lungo il midollo spinale e poi viene percepito a livello del cervello. Questo in un contesto storico in cui la malattia era ancora vista come una punizione divina. Nel 1798 il chimico Davy propone le inalazioni di ossido nitrico come terapia del dolore. In particolare aveva capito che erano sufficienti 6 o 7 inalazioni di ossido nitrico perché il paziente perdesse conoscenza e in questo modo poteva essere operato e quindi poteva subire degli interventi chirurgici promuovendone quindi l'azione analgesica. Arriviamo nel 1805 quando viene isolata la morfina, il principio attivo dell'oppio, viene isolata dal papaver somniferum. Infine, o meglio, arriviamo nel 1899 quando la Bayer mette in commercio l'aspirina. Aspirina che come c'è scritto in questo primo bugiardino non poteva essere somministrata ai soggetti di età inferiore ai 23 anni e permetteva di trattare mal di testa, reumatismi, lombalgia e dolore. Arriviamo al 1900. Due grandi scoperte. Sherrington scopre nel 1906 i nocicettori e li definisce come neuroni sensoriali primari attivati da stimoli capaci di causare un danno tessutale. Qualche anno dopo, circa 60 anni dopo, Melzac e Wall propongono la teoria del cancello, ovvero quella teoria che spiega cosa succede e perché quando ci facciamo male, ad esempio urtiamo un braccio contro uno spigolo, massaggiando l'area dolente, proviamo meno dolore. Loro hanno dato una spiegazione di questo fenomeno, con la teoria del cancello di cui parlerò dopo. Arriviamo nella seconda metà del 1900 con Snyder e Peart che scoprono l'esistenza di opioidi endogeni, ovvero di sostanze con attività morfino simile, cioè con proprietà analgesiche prodotte dal nostro corpo, per questo endogeni. Nel 1986 viene conferito a Rita Levi-Montalcini il premio Nobel per la medicina grazie alla scoperta del fattore di crescita neuronale, che svolge moltissime funzioni, ma nell'ambito del dolore promuove il dolore infiammatorio neuropatico. Un'osservazione, dobbiamo aspettare più o meno gli anni 70 del 900 per vedere due grandi donne, per vedere le donne in ambito scientifico. Allriviamo al 1991, quindi ci avviciniamo sempre più ai giorni nostri, e viene confermata la relazione forte che c'è tra emozioni e dolore. Negli ultimi due o tre anni la ricerca si è incentrata sulla differente percezione del dolore nei due sessi, in quanto l'obiettivo verso cui sta andando la ricerca alla medicina è quella di una terapia personalizzata, quindi su misura del singolo, tenendo conto delle differenze che vi sono tra i soggetti e un'importante differenza è appunto quella dei due sessi. E già dall'anno scorso sono state proposte strategie alternative al trattamento con la morfina perché si stanno verificando e si sono verificati dei fenomeni di tolleranza. Io parto con una domanda che potrebbe sembrare banale, cioè cos'è il dolore. In realtà il dolore è un concetto non facilmente delineabile. Ad oggi la definizione più condivisa è quella della IASP, cioè l'International Association for the Study of Pain, che risale al 1986 e definisce il dolore come un'esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole associata a danno tessutale potenziale o in atto o descritto in tali termini. Vediamo quindi come in questa definizione a un danno organico o biologico comunque venga associata anche un'esperienza soggettiva ed emozionale. Infatti il medico quando si trova ad approcciarsi a un paziente che descrive un'esperienza dolorosa deve assolutamente tenere in considerazione anche tutta questa sfera emozionale che ovviamente è preponderante. Faccio anche un rapido escurso nel giuramento di Ippocrate, che è abbastanza famoso ma magari non tutti conoscono nel dettaglio. Leggo l'ultima riga. Giuro di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale ogni mio atto professionale. Vediamo quindi come il sollievo della sofferenza dovrebbe essere uno degli impegni centrali del medico. In realtà questa cosa non è stata così ben delineata fino a pochi anni fa, nel senso che spesso il medico era tenuto a curare magari la patologia di base che aveva causato il dolore, ma senza soffermarsi tanto sulla cura del dolore vero e proprio. Infatti il dolore era considerato quasi come un male necessario che andava sopportato stoicamente da parte del paziente, non aveva una vera dignità di malattia. In realtà negli ultimi anni si è assistito a una sorta di rivoluzione culturale in questo senso, che ha portato a considerare il dolore come una malattia vera e propria, che ha una sua propria dignità e ha bisogno di una terapia specifica, che va considerata al pari di qualsiasi malattia cronica come per esempio il diabete. Questa rivoluzione culturale parte dal 97, in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità rilascia questa raccomandazione. Ogni vita umana raggiunge il termine, garantire che questo avvenga nel modo più dignitoso, attento e meno doloroso è una priorità. Questa rivoluzione continua nel 2004, in cui viene istituita la giornata senza dolore, da parte sempre dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e della IASP, e in Italia queste direttive vengono recepite soltanto nel 2010, in cui viene emanata la legge numero 38 sulle posizioni per garantire l'eccesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Infatti, fino a quel momento non c'era in Italia una legge che legiferasse in materia di terapia del dolore. Questa rivoluzione culturale raggiunge l'apice nel 2011, nella dichiarazione di Montreal. A Montreal si sono riuniti dei massimi esperti internazionali in materia e partendo da alcune considerazioni sono arrivati a descrivere la terapia del dolore come un diritto umano inalienabile. Infatti, sono partiti dal presupposto che circa 5 miliardi di persone nel mondo non hanno accesso alla terapia del dolore, che spesso nemmeno il personale sanitario è adeguatamente formato per poter fare fronte all'esperienza dolorifica del paziente. Per questo motivo sono stati definiti tre punti, che sono poi tra diritti umani, riguardo l'accesso alle terapie del dolore. Viene definito appunto che l'uomo ha un accesso alla terapia del dolore, ha il diritto di essere informato sul suo dolore, sulle cause che lo provocano e anche sulle terapie disponibili e ha il diritto ad essere assistito da personale sanitario che sia adeguatamente formato su questa materia. È utile fare una precisazione, nel senso che ho detto che adesso il dolore è considerato una malattia vera e propria che ha una sua appunto dignità di malattia, ma in realtà il dolore è anche un sintomo. È un sintomo quando parliamo di dolore acuto. Il dolore acuto in realtà è un campanello d'allarme importantissimo, ha un ruolo fisiologico che è imprescindibile. Infatti mette in allarme l'organismo, gli sta dicendo che c'è un danno in atto e fa sì che l'organismo si possa mettere al riparo e possa riparare appunto questo danno che sta iniziando o è già in atto. Il dolore cronico invece si definisce quando le cause che hanno provocato il dolore non sono più risolvibili e quindi il dolore diventa una malattia vera e propria. Infatti più che un criterio temporale per definire il dolore cronico bisogna guardare più che altro se la causa che sta alla base del dolore è risolvibile oppure no. Quando non è risolvibile si delinea appunto quello che è chiamato dolore cronico. Proprio perché il dolore è un'esperienza soggettiva ed è difficile da delineare ci sono due strumenti che il medico può utilizzare per riuscire a delineare meglio e capire quale sia poi l'approccio giusto per il paziente per alleviare la sua sofferenza. Il primo è l'anamnesi. L'anamnesi è l'intervista al paziente. E' importante che durante la prima visita il paziente racconti con le proprie parole qual è la sua esperienza dolorosa nel senso che in questo modo sente di poter instaurare un'alleanza terapeutica con il medico e si riesce anche meglio a capire quale sia il ruolo che il dolore ha nella vita quotidiana del paziente quindi quanto questo occupi la sua psiche e anche le sue abitudini di vita. L'anamnesi ha uno scopo diagnostico nel senso che è in grado di fare sì che il dolore venga meglio delineato in tutte le sue caratteristiche e si possa fare una vera diagnosi ma anche uno scopo terapeutico nel senso che solo conoscendo veramente di che dolore si tratta è poi possibile impostare una terapia adeguata. Durante l'anamnesi vanno indagati vari fattori, vari variabili. La prima è sicuramente l'andamento temporale nel senso che ci sono alcune condizioni dolorifiche che seguono un andamento per esempio giornaliero cioè il paziente magari ha male solamente alla mattina o solo di notte in modo ripetuto. Altre malattie hanno addirittura invece un andamento stagionale per cui il paziente prova dolore solamente in certi periodi dell'anno e non in altri. Ovviamente va indagato poi la durata del dolore cioè a quante ore della sua giornata il paziente ha dolore. L'altro dato ovviamente da indagare è la localizzazione nel senso che il paziente descrivendo dove ha male ci dà delle indicazioni su dove può essere il possibile danno. Questo è vero solo in parte nel senso che bisogna fare un distinguo tra il dolore somatico che è il dolore per esempio dell'acute o dei muscoli o dell'apparato scheletrico che spesso è riferito proprio nella parte anatomica che viene danneggiata. Mentre invece il dolore è riferito agli organi interni quindi il dolore viscerale per esempio il cuore oppure l'intestino, gli organi pelvici spesso danno dolore in una zona che non è sempre la perfetta corrispondenza anatomica del luogo lesionato. Un esempio molto famoso per esempio è il dolore da infarto cardiaco del cuore in cui il dolore è sì presente a livello toracico ma spesso è radiato lungo il braccio oppure addirittura lungo il collo fino alla mandibola. Va indagato anche se il dolore è spontaneo oppure se è evocato. Il dolore è spontaneo quando il paziente si sveglia prima di aver compiuto qualsiasi movimento ha già dolore quindi il dolore in questo caso non riconosce nessuna causa individuabile mentre invece è evocato quando alcune azioni che il paziente compie fanno sì che il dolore venga esacerbato per esempio i movimenti possono aumentare il dolore ma anche altri atti che potrebbero sembrare banali come l'alimentazione o la deglutizione. È importante anche chiedere se il paziente assume farmaci perché il paziente se prova dolore da tempo potrebbe assumere già farmaci a scopo analgesico ma evidentemente non sono i farmaci adatti per lui quindi vanno esclusi da una futura terapia farmacologica. Va anche indagato però la presenza di altri tipi di terapie farmacologiche nel senso che alcuni farmaci possono essere loro stessi la causa del dolore dal caso per esempio delle terapie antineoplastiche contro i tumori che spesso hanno proprio come effetto collaterale l'insorgenza di dolore. Un'altra variabile molto importante da indagare è la ripercussione del dolore sulla psiche e sulla vita quotidiana nel paziente. La vita di ognuno di noi è divisa in diversi ambiti ovviamente ed è importante capire quanto il dolore incide in ognuno di questi diversi ambiti e quanto limiti la vita quotidiana della persona. Inoltre è anche importante capire come il paziente vive questo dolore dal punto di vista psicologico nel senso che spesso alla terapia farmacologica è importante associare una terapia di tipo psicologico che non è meno importante. L'altro strumento a disposizione per quantificare il dolore quindi per misurarne l'intensità in questo caso sono le scale di valutazione. Sono delle scale che sono state oggetto di studio ad oggi sono validate e ne abbiamo tre tipi qua rappresentati. La prima è la scala viso-analogica in cui c'è una barra di 10 centimetri in cui ai due estremi corrisponde da un lato nessun dolore dall'altro il massimo dolore e il paziente deve indicare qual è il livello di dolore che prova. Queste scale hanno alcune modifiche per esempio nella scala verbale nella sbarra diciamo di 10 centimetri viene intervallata da alcuni aggettivi che possono descrivere il dolore quindi possono aiutare quei pazienti a collocare il proprio dolore laddove ci siano per esempio dei deficit cognitivi per cui in questo caso il paziente può essere aiutato nell'esprimere il proprio dolore anche se in realtà questa scala a volte, cioè questi aggettivi influenzano anche il paziente quindi è la scala che si tende a usare meno. In Emilia Romagna quella che viene utilizzata è l'ultima cioè la scala numerica. Nella scala numerica la sbarra è intervallata da un numero da 0 a 10 che va a indicare l'intensità del dolore da 0 a 4 il dolore è considerato lieve da 5 a 7 è considerato moderato e oltre all'8 è considerata un'emergenza terapeutica cioè un dolore severo. Questa scala è utile sia da somministrare al paziente nel tempo per valutare quale sia l'andamento del suo stato dolorifico ma anche è utile somministrarla prima e dopo la terapia per vedere se la terapia ha effettivamente successo. Se il dolore diminuisce di almeno due punti la terapia è considerata efficace. È interessante anche notare quest'ultima scala che è quella che viene utilizzata in ambito pediatrico invece per i bambini dai 3 ai 10 anni in cui viene chiesto al bambino di indicare la faccina in cui meglio si identifica ed è capitato in ospedale che un bambino abbia detto che gli faceva molto molto male ma che dicesse di identificarsi nella scala corrispondente all'8 perché lui era un maschio e quindi i maschi non piangevano. Passiamo ora ad analizzare quelle che sono le vie di trasmissione degli stimoli dolorifici. Stimoli dolorifici possono avere diversa natura possono provenire dall'ambiente interno ma anche soprattutto dall'ambiente esterno. Quindi per semplificare questa via che in realtà è molto complessa ci serviremo di un aiutante che è il paperino che detto così sembra estremamente semplificata ma non lo è. Di fatto la trasmissione del dolore degli stimoli dolorifici si articola in tre fasi che sono la trasduzione ovvero la prima trasduzione ovvero uno stimolo di natura dolorifica viene convertito in uno stimolo elettrico e il segnale viene poi trasmesso passando lungo il sistema nervoso centrale. Segue poi una fase dove il dolore viene trasmesso e viene percepito e questa è la conseguenza. Se il dolore è molto grave e richiede un intervento medico ecco che interviene il medico con un trattamento. La prima fase è la fase di trasduzione e alla trasduzione dello stimolo dolorifico sono deputati i nocicettori quelli che erano definiti da Sherrington i neuroni primari sono delle cellule particolari sono chiamate cellule T proprio in virtù della loro forma. Presentano infatti un corpo cellulare con un nucleo e due prolungamenti uno che va verso la periferia che può essere la pelle può essere un muscolo un viscere e l'altro prolungamento invece passa e va a livello del midollo spinale in particolare il midollo spinale che si trova all'interno della colonne vertebrale se lo analizziamo in una sezione trasversale si distingue in una sostanza bianca più chiara in una sostanza grigia interna che possiamo dire a forma di farfalla e a livello delle ali e delle farfalle si distinguono corna anteriori o ventrali e corna dorsali o posteriori e i prolungamenti di questi nocicettori quelli che vanno a livello del midollo spinale entrano qui a livello delle corna dorsali dove si trovano diversi tipi di neuroni e adesso andiamo a analizzare quelle che sono le cosiddette fibre nervose della sensibilità dolorifica vi sono diversi tipi di fibre nervose della sensibilità dolorifica due importanti classi sono le fibre a delta e le fibre c che si distinguono per le loro dimensioni infatti quelle a delta hanno un diametro inferiore a 3 micrometri e quelle c hanno un diametro di un micrometro e si differenziano per la velocità di conduzione dello stimolo infatti sono più veloci le fibre a delta tanto che queste sono deputate la trasmissione del cosiddetto primo dolore o dolore pungenta lo si vede bene in questo diagramma dove si ha appunto l'andamento quindi come compaiono le fibre nel tempo e la loro intensità invece le fibre c sono responsabili del secondo dolore o dolore sordo e hanno anche un'azione più prolungata occorre però sottolineare che a livello cosciente non si distingue tra questi due tipi di dolore perché comunque si tratta di velocità molto alte però a livello sperimentale si può distinguere tra queste due forme a livello delle corna dorsali del midollo spinale arrivano però anche altre fibre come ad esempio le fibre a beta che sono deputate non alla trasmissione di stimoli dolorifici ma stimoli tattili stimoli meccanici non dolorifici e perché è importante introdurre anche questo tipo di fibre per spiegare la teoria del cancello a cui avevo accennato prima infatti a livello in presenza di uno stimolo non dolorifico intervengono queste fibre a beta che arrivano a livello delle corna dorsali del midollo spinale siamo qui e vanno ad agire su degli interneuroni inibitori cioè dei neuroni particolari con ruolo associativo che vanno a inibire la trasmissione del dolore e quindi si dice che il cancello è chiuso cioè lo stimolo doloroso non viene propagato viceversa in presente di uno stimolo dolorifico arrivano sempre a livello delle corna dorsali del midollo spinale le fibre C deputate dalla trasmissione dolorifica e in questo caso vanno a bloccare gli interneuroni inibitori e quindi si dice che il cancello è aperto e il segnale dolorifico può passare e arrivare ai centri superiori questo spiega perché in presenza simultanea è di uno stimolo dolorifico e di uno stimolo meccanico quindi urto mi faccio male massaggio la parte dolente provo meno dolore se arriva uno stimolo dolorifico quindi passando dalle corna dorsali del midollo spinale arriva ai centri superiori arriva al talamo e la via che viene percorsa prende prende il nome di via spino-talamica proprio perché dal midollo spinale al talamo una volta arrivata poi nel talamo il segnale si smissa passa a livello della corteccia della corteccia somatosensoriale dove si ha una percezione una coscienza dell'evento dolorifico ma non arriva solo qua arriva infatti anche a livello del sistema limbico e della corteccia cingolata queste due aree sono preposte alla componente e all'elaborazione emotiva a tutta quella componente emozionale legata al dolore questo è molto importante lo vedremo anche più tardi vi è però anche una regolazione che non solo fa dalla periferia passando per il midollo spinale e i centri superiori c'è anche una regolazione discendente e questa regolazione discendente ha la funzione di lasciare e quindi ha una funzione inibitore nei confronti del dolore e consente di rilasciare i cosiddetti opioidi endogeni quelli scoperti da Snyder e Pert che funzioni hanno questi opioidi endogeni cioè il nostro corpo di fatto produce delle sostanze con azione simile alla morfina proprio per inibire e ridurre il dolore e hanno due funzioni la prima è quella di inibire il rilascio di sostanze che promuovono l'azione dolorifica quindi la sostanza P ad esempio che è il principale mediatore del dolore ma anche le catecolamine quindi adrenalina e noradrenalina e la serotonina ma promuove anche il rilascio di sostanze ad azione gratificante come la dopamina e questo è poi il meccanismo che svolgono anche numerose sostanze d'abuso quindi promuovono il rilascio di dopamina che ha azione gratificante e quindi danno una sensazione piacevole di benessere e sia la morfina che gli opioidi endogeni si vanno a legare dagli stessi recettori che sono diversi quelli più importanti anche dal punto di vista farmacologico sono i recettori mi preposti all'analgesia vi sono anche i recettori delta preposti alla sedazione ma esistono anche i recettori k, sigma ed epsilon ma gli animali sintetizzano anche vera morfina cioè uguale a quella prodotta dal papavero la risposta è sì seguono una via diversa ma il prodotto finito è lo stesso e non solo lo produce l'uomo ma questo è stato ritrovato anche in numerosi mammiferi ed è stato trovato anche nei molluschi e in questo simpatico verme che è Ascaris lumbricoides e nei mammiferi non solo ha una funzione analgesica ma va a intervenire anche sul sistema limbico e sull'ippocampo e quindi va ad alterare il ricordo e le emozioni associate a una sensazione dolorifica molto forte come ad esempio il parto infatti se le donne si ricordassero effettivamente quanto è doloroso partorire al primo figlio si fermerebbero invece grazie a queste sostanze a questi opioidi endogeni prodotti dal nostro corpo insieme ad altre sostanze come ad esempio l'ossitocina questo ricordo viene diciamo alterato abbiamo visto quando funziona tutto bene e quindi quando il sistema nervoso è intatto e la trasmissione avviene normalmente ma cosa succede se un neurone viene lesionato? Allora innanzitutto occorre specificare che il sistema nervoso è un sistema cosiddetto plastico plastico nel senso che si modifica si creano nuovi circuiti che sono fondamentali per processi come l'apprendimento la memorizzazione ed è questo fondamentale perché questi nuovi circuiti queste nuove connessioni consentono tutti questi meccanismi e quando si verifica una lesione a livello di un neurone le conseguenze che gli scenari che si aprono sono diversi puntare a una rigenerazione di un neurone leso diciamo che dai mammiferi in poi questa non è una buona ancora di salvezza infatti la rigenerazione dei neuroni è un fenomeno molto raro ed è uno dei grandi ostacoli della terapia delle malattie neurodegenerative perché solitamente noi nasciamo con un pacchetto definito di neuroni e questi non si ricambiano quindi puntare una rigenerazione non è sicuramente una buona una garanzia ecco quindi due sono gli scenari o i neuroni non lesionati si riorganizzano e innervano i neuroni che sono rimasti privi di innervazione oppure i neuroni lesionati ma che comunque non sono morte e quindi sono ancora vivi possono andare a creare dei circuiti e ad alterare le aree integre circostanti questo fenomeno prende il nome di maladattamento rigenerativo e questo avvia un circolo vizioso perché perché il maladattamento rigenerativo a lungo andare è responsabile del cosiddetto fenomeno dell'allodinia ovvero la percezione dolorifica a seguito di uno stimolo che però non è dolorifico e questa è stata dimostrata essere una delle cause responsabili della cronicizzazione del dolore ovvero del passaggio da dolore acuto quindi sistema d'allarme a dolore cronico quindi una malattia considerata come tale questo però la cronicizzazione va a potenziare il maladattamento rigenerativo e il tutto a lungo andare può andare a distruggere aree cerebrali e quindi sia una riduzione della densità cioè del numero di neuroni ma anche una riduzione del volume cerebrale da cosa può essere dovuto questo maladattamento rigenerativo può essere conseguente a diverse malattie tumori malattie autoimmuni infezioni virali ma vorrei soffermarmi sulle amputazioni l'amputazione è la perdita di un arto ad esempio prendiamo l'esempio del braccio a seguito di un'amputazione molti soggetti riferiscono di percepire l'arto mancante come se fosse ancora presente e questo perché a livello della corteccia permane il ricordo diciamo di quest'area fino a qua nulla di male ma in presenza di un'alterata un maladattamento quello che si verifica è la cosiddetta sindrome dell'arto fantasma e non solo i soggetti avvertono dolore all'arto amputato cioè avvertono dolore a un arto che non c'è e questo è sicuramente problematico e richiede un trattamento che al momento è molto difficile da trovare e sembra una strategia che sembra dare sollievo a questi soggetti è la mirror box ovvero il soggetto prendiamo in questo caso a cui è stato amputato l'avambraccio inserisce l'avambraccio invece presente in questa scatola dove si trova uno specchio vedendo riflessa l'arto sano ecco che questo determina o allevia la sensazione dolorifica in questa conferenza parliamo di terapia del dolore allora penso sia giusto spiegare cosa c'è dietro al farmaco che si trova si acquista in farmacia e anche cosa c'è dietro a tutte le scoperte che sono state finora fatte dunque innanzitutto come si studia si studia su modelli un modello è un sistema semplificato accessibile meglio se commercialmente disponibile e facilmente manipolabile al momento esistono più di 270 modelli di topi e ratti geneticamente modificati che comunque presentano delle caratteristiche congeniali che hanno portato nel corso degli anni a definire quelle che sono le vie di trasmissione del segnale doloroso in questo ambito ma questo vale come regola diciamo generale o comunque come regola molto frequente nella ricerca hanno permesso di identificare quelli che sono i neurotrasmettitori e i recettori coinvolti hanno permesso di spiegare e di individuare quei fenomeni che portano alla cronicizzazione del dolore quindi come l'allodinia e anche l'iperalgesia cioè un'aumentata percezione un'estrema percezione dolorifica seguito di stimoli lontali e questo ha permesso di sperimentare i farmaci infatti dietro a un farmaco vi sono anni di ricerca in cui si trovano potenziali nuove molecole che possono essere utilizzate a fini terapeutici e si entra così in una fase preclinica in questa fase entrano migliaia di molecole e nella fase preclinica si è fatta la sperimentazione dopodiché quelle molecole che superano la fase preclinica entrano in fase clinica dove si sperimenta sull'uomo le prime tre fasi vengono effettuate prima della messa in commercio del farmaco la prima fase viene effettuata su soggetti volontari sani un numero molto basso vediamo decine centinaia e migliaia la seconda fase e la terza invece sono effettuate su pazienti dopodiché vediamo come si restringe ci sia proprio un effetto in buto quindi a partire da tanti potenziali farmaci ogni anno circa un farmaco viene approvato dalla Food and Drugs Administration quindi il tutto dura più o meno dai 10 ai 12 anni circa è successo che in fase 4 cioè quella post marketing un farmaco venisse ritirato perché presentava degli effetti collaterali che nel corso della sperimentazione non erano emersi perché magari i fenomeni a lungo termine questo proprio per dire tutto il lavoro che c'è dietro però è anche necessario parlare della regola delle tre R questa regola è stata proposta nel 1959 e sono un po' i tre obiettivi a cui punta la ricerca per quanto riguarda la questione della sperimentazione e la prima R è ridurre il numero di animali sacrificati in laboratorio o aumentare le informazioni che si possono ottenere a partire da un modello refine cioè ridefinire quelle che sono le condizioni in cui il sacrificio avviene e quindi alleviare il più possibile le sofferenze dell'animale e replace cioè sostituire sostituire con altri modelli e al momento questi potenziali modelli sono anche utilizzati modelli di invertebrati quando ovviamente gli studi consentono l'uso studi in neuroimmagini cellule in vitro quindi modelli in vitro cioè culture cellulari e simulazioni informatiche al momento questi affiancano quindi la ricerca ma non sono ancora in grado di sostituire in maniera autonoma la ricerca che richiede al momento di passare per la sperimentazione io passo quindi alla terapia farmacologica vera e propria come si tratta il dolore nell'impostare la terapia analgesica ad oggi la scala di riferimento è la scala tra gradini dell'organizzazione mondiale della sanità che è stata rilasciata nel 1986 quindi è effettivamente un po' datata è una scala molto famosa in ambito medico diciamo è una scala progressiva cioè associa un'intensità di dolore e delle specifiche molecole farmacologiche quindi al dolore lieve quello che era stato classificato da 0 a 4 nella scala numerica associa l'utilizzo di FANS cioè farmaci antinfiammatori non steroidei al dolore moderato quello che va da 5 a 7 della scala numerica associa degli opioidi deboli mentre al dolore severo superiore all'8 della scala numerica associa degli opioidi forti negli ultimi gradini si possono utilizzare anche in associazione i farmaci dei gradini precedenti e inoltre in tutti e tre i gradini vengono nominati gli adiuvanti gli adiuvanti sono dei farmaci che non sono stati strettamente pensati per la terapia del dolore come per esempio i lassativi o gli antiemetici ma anche gli antidepressivi oppure gli antiepilettici ma che se usati in associazione con farmaci invece analgesici danno un miglioramento del risultato terapeutico è una scala come dicevo molto datata e ha alcuni limiti il primo limite è l'approccio progressivo nel senso che la scala prevederebbe di passare attraverso tutti i tre gradini per arrivare alla terapia ottimale ma in realtà se un paziente si presenta per la prima volta con un dolore già severo è inutile farlo passare attraverso il primo gradino si può partire impostare la terapia già dal livello più alto il vero limite di questa scala è il fatto che considera solamente l'intensità del dolore in realtà il dolore ha varie sfaccettature in particolare il vero limite di questa scala è che non considera l'ezio patogenesi del dolore cioè il meccanismo che ha generato il dolore esistono due tipi di dolore fondamentalmente che sono il dolore nocicettivo e quello neuropatico il dolore nocicettivo è il dolore che è associato a una lesione ben identificabile e che segue quelle vie di trasduzione che ha spiegato prima Veronica quindi che sono ben descrivibili insomma il dolore nocicettivo si divide in somatico e viscerale il dolore somatico come dicevo prima è quello che riguarda la cute il sottocute i muscoli e l'apparato osteoarticolare e di solito è ben localizzato da parte del paziente il paziente riesce a dire esattamente dove prova male quindi qual è l'organo che è stato leso ed è descritto spesso come pungente oppressorio il dolore viscerale invece è un dolore che è riferito a un danno degli organi interni e spesso è molto più vago la sua descrizione è più difficile e per un esempio tipico per esempio è il dolore di tipo crampiforme che è associato alla patologia dell'apparato digerente il dolore neuropatico invece è dovuto a un'alterazione del sistema nervoso sia a livello centrale quindi midollo spinale cervello sia a livello periferico cioè tutti i nervi le cause sono molteplici per esempio ci può essere una lesione del nervo in seguito a un'operazione chirurgica oppure alcune malattie infettive danno un dolore di tipo neuropatico come per esempio l'herpes zoster che dà il famoso fuoco di Sant'Antonio e un'altra malattia che dà un dolore neuropatico è il diabete perché il diabete va a danneggiare i nervi oppure le malattie neurodegenerative come la sclerosi multipla e una parentesi a parte merita il dolore oncologico che è poi il dolore per cui era stata pensata inizialmente la scala tra gradini di cui parlavo prima il dolore oncologico è un po' un insieme di tutti questi tipi di dolore nel senso che l'espansione del tessuto tumorale la sua infiltrazione può causare sia un danno alle strutture dell'organismo quindi causare un dolore di tipo nocicettivo ma il tessuto tumorale può anche infiltrare il sistema nervoso sia centrale che periferico e quindi dare un dolore di tipo neuropatico inoltre va considerato che anche alcune terapie oncologiche sono la causa stessa del dolore il dolore di tipo oncologico è spesso il primo sintomo del tumore quindi è il sintomo che porterà poi alla diagnosi di tumore per cui in realtà ha un ruolo fondamentale spesso però quando si parla di oncologia il dolore va oltre a questa funzione di segnale e si instaura un dolore di tipo cronico spesso i pazienti oncologici sono pazienti che devono assumere quotidianamente delle terapie per il dolore e oltre a questo dolore che diciamo c'è sempre accompagna quotidianamente il paziente si associano degli episodi di dolore acuto che possono raggiungere anche il livello 10 della scala numerica sono episodi che durano dai 20 minuti all'ora e che possono ripresentarsi con una certa regolarità nella vita del paziente quando questi episodi sono superiori a 2 nell'arco della giornata significa che la terapia di base per il dolore cronico che il paziente sta facendo non è appropriata e quindi va modificata questa scala tuttavia è ancora in uso perché ha anche alcuni vantaggi il vantaggio principale è che in realtà è modulabile ed è personalizzabile infatti la medicina del futuro è quella che sarà personalizzata sulle esigenze di ogni paziente tenendo in considerazione vari variabili questa scala permette una certa modulabilità per vari motivi perché all'interno di ogni gradino sono presenti diverse molecole in realtà che si possono usare per cui può essere scelta quella più appropriata per il paziente in questione inoltre si possono variare le posologie cioè la dose del farmaco oppure la via di somministrazione infatti prendere un farmaco per via orale o per esempio per via iniettiva non dà ovviamente lo stesso risultato il fatto che la scala comprenda anche l'ausilio di adiuvanti fa sì che in parte in realtà il meccanismo alla base del dolore venga preso in considerazione perché gli adiuvanti vengono scelti proprio in base alla causa scatenante del dolore al primo gradino della scala troviamo i FANS i farmaci antinfiammatori non steroidei poi ho indicato alcune delle molecole che sono molecole famosissime di uso comune che tutti avranno provato almeno una volta nella vita sono farmaci che hanno tre caratteristiche principali sono antipiretici cioè abbassano la febbre analgesici infatti fanno parte della terapia del dolore ma sono anche antinfiammatori questo significa che a fronte di una azione analgesica diciamo di per sé a parte vanno anche ad agire su una delle possibili cause del dolore quindi attenuano il dolore su due livelli differenti si basano sulla inibizione della sintesi di prostaglandine le prostaglandine sono delle molecole che svolgono diverse funzioni nell'organismo anche in un organismo sano nell'organismo sano in particolare hanno un ruolo molto importante a livello dell'apparato digerente perché proteggono la mucosa dello stomaco e quindi proteggono dal rischio per esempio di ulcere o sanguinamenti e svolgono soprattutto una funzione molto importante a livello renale cioè fanno sì che il rene mantenga la sua funzione quando però siamo in una situazione di danno le prostaglandine sono quelle che vanno ad agire a livello del sistema nervoso sia periferico che centrale causando una iper-eccitabilità dei nocicettori dei neuroni spinali quindi aumentano la trasmissione dolorifica ed è proprio lì che il farmaco va ad agire diminuendo l'attivazione di questi nocicettori queste azioni sono poi anche la base la causa degli effetti collaterali innanzitutto è bene dire che sono farmaci che hanno un effetto tetto questo significa che all'aumentare della dose oltre a una certa soglia non aumenta l'effetto analgesico ma aumentano solamente gli effetti collaterali quindi sono farmaci che non vanno presi non vanno abusati insomma la tossicità più importante in assoluto è la tossicità renale è molto pericolosa sia perché ovviamente il rene svolge una funzione fondamentale per l'omeostasi dell'organismo ma anche perché è un effetto collaterale di cui spesso il paziente non si rende conto cioè una persona non è in grado di accorgersi che il rene sta smettendo di funzionare se non quando il danno è molto avanzato quando spesso è troppo tardi per cui è un rischio che va considerato attentamente l'altro effetto collaterale che invece è più evidente è la tossicità gastrica come dicevo prima la carenza di prostaglandine fa sì che la mucosa gastrica possa andare incontro a ulcere perforazioni o sanguinamenti c'è un modo per fare fronte a questo effetto collaterale diversi modi in realtà innanzitutto è importante valutare se il paziente ha già di per sé dei fattori di rischio che lo espongono a questa tossicità cioè il paziente anziano il paziente che fuma il paziente che assume antiaggreganti o che ha già avuto in passato degli episodi di ulcere o affini insomma è un paziente che è più a rischio quando viene identificato un paziente a rischio si possono si può associare alla prescrizione di FANS i gastroprotettori cioè farmaci che vanno a proteggere la mucosa dello stomaco come per esempio l'omeprazolo che è un altro farmaco di uso abbastanza comune oppure si possono considerare i coxib i coxib sono dei tipi di FANS una sottocategoria dei FANS che vanno a inibire solamente le prostaglandine a livello del sistema nervoso periferico ma purtroppo anche a livello renale ma non a livello gastrico in questo modo l'effetto collaterale a livello gastrico non c'è uno potrebbe chiedersi allora perché non utilizzare sempre i coxib perché i coxib hanno di contro una tossicità cardiovascolare molto più elevata per cui non tutti i pazienti sono dei candidati ideali per l'utilizzo di questi farmaci un ultimo effetto collaterale è il prurito di cui di cui parlerà meglio Veronica faccio solo un piccolo inciso e abbiamo visto che dalla somministrazione uno degli effetti collaterali che deriva dalla somministrazione di farmaci analgesici è il prurito quindi questo sottolinea già come ci sia una relazione antagonistica tra il dolore e il prurito quindi se da un lato gli analgesici determinano il prurito quindi il blocco del dolore causa prurito il dolore stesso può bloccare il prurito e questo è rappresentato da il grattarsi infatti se ci prude qualcosa noi ci grattiamo grattandoci sì la trasmissione del prurito viene inibita e questo avviene con un meccanismo in cui il grattarsi attiva le fibre dolorifiche in particolare le fibre C determinando il rilascio di questo neurotrasmettitore che si chiama glutammato che è un neurotrasmettitore che va ad eccitare gli interneuroni inibitori cioè va a potenziare l'inibizione del prurito e lo fa eccitando altri interneuroni inibitori che rilasciano queste sostanze che si chiamano GABA e glicina neurotrasmettitori inibitori e questo va a bloccare la trasmissione del prurito questo più che altro sia perché sarà l'argomento della mia tesi ma soprattutto per far vedere come un argomento come il dolore possa essere visto da più punti di vista e in questo caso abbia un'azione positiva sulla percezione del prurito torno ai fans quali sono le indicazioni cioè i casi in cui è appropriato utilizzare i fans in assoluto le patologie dell'apparato muscolo scheletrico sono le patologie principali per cui vengono utilizzate infatti sono molto efficaci in particolare in caso di danno non grave possono essere utilizzati sotto forma di cerotto oppure di pomata in questo modo tutti gli effetti collaterali di cui ho parlato prima si riducono notevolmente se non si azzerano mentre invece per quanto riguarda le altre indicazioni cioè i dolori di lieve moderata intensità troviamo i piccoli interventi chirurgici non la chirurgia maggiore i dolori mestruali le coliche renali in cui l'abbassamento delle prostaglandine è molto utile spesso per dato che comunque si tratta di un dolore che in realtà è severo spesso quello della colica renale si utilizza per via intramuscolare perché è più efficace e una parentesi a parte meritano anche le cefalee che sono una delle cause principali di utilizzo comune dei fans in cui però è bene fare un distingo nel senso che le cefalee sporadiche possono avalersi e giovarsi dell'uso dei fans mentre invece altri tipi di cefalee ricorrenti meriterebbero una valutazione specialistica nel senso che è giusto avere una diagnosi precisa della propria cefalea perché alcuni alcuni casi come per esempio l'emicrania con aurea l'emicrania grappolo si giovano maggiormente di altri tipi di farmaci rispetto ai fans come per esempio i triptani oppure addirittura gli antidepressivi per cui un paziente che non ha una diagnosi di emicrania fa un uso sconsiderato diciamo dei fans è molto a rischio di andare in conto a tutti quegli effetti collaterali che vedevamo prima faccio una parentesi molto breve sul paracetamolo perché è uno dei farmaci più utilizzati in assoluto che alcuni farmacologi classificano tra i fans perché ha un meccanismo d'azione simile ma non diciamo del tutto sovrapponibile infatti il paracetamolo è un'azione analgesica e antipiretica ma non è antinfiammatorio a differenza di tutti gli altri fans e agisce a livello centrale cioè solamente a livello del sistema nervoso centrale non a livello periferico come tutti gli altri fans questo fa sì che tutti quegli effetti collaterali di cui ho parlato prima non ci siano per cui è un farmaco ideale per i pazienti che hanno magari copatologie oppure per i pazienti anziani più deboli o più debilitati di contro però il paracetamolo ha una tossicità epatica cioè a livello del fegato è una tossicità che però è strettamente dose dipendente per cui se ci si attiene al dosaggio giusto non dovrebbe insorgere ovviamente in pazienti che hanno già di base una patologia epatica va meglio considerata la dose di somministrazione passo quindi al secondo e al terzo gradino della scala dell'OMS cioè i farmaci oppioidi i farmaci oppioidi sono quei farmaci che ricalcano come struttura e come funzione gli oppioidi endogeni di cui ha parlato prima Veronica e vanno quindi ad agire su dei propri recettori sono dei recettori che si trovano in varie parti del corpo umano e a seconda della loro localizzazione svolgono delle funzioni diverse per esempio i recettori che si trovano a livello del bulbo e del tronco che è questa parte del sistema nervoso centrale che collega l'encefalo quindi il cervello al midollo spinale che sta qua sotto vanno ad agire per esempio sui centri di controllo della respirazione e del vomito mentre invece i recettori che si trovano nel talamo mediale nel sistema limbico cioè questa parte del sistema nervoso centrale vanno ad agire di più sulla componente affettiva dell'esperienza dolorosa i recettori oppioidi sono presenti a livello del midollo spinale e dei nervi periferici ed è in questa sede che svolgono principalmente la loro azione analgesica si trovano anche nelle cellule del sistema immunitario e quindi pare che svolgano anche una sorta di modulazione della risposta infiammatoria da parte del sistema immunitario il meccanismo d'azione degli oppioidi va a toccare varie parti della trasmissione dello stimolo doloroso ed è per questo che sono molto efficaci perché vanno sia a ridurre in periferia l'attivazione dei nocicettori riducono la trasmissione a livello del sistema del midollo spinale riducono la trasmissione del dolore dal talamo alla corteccia questo passaggio è quello che rende lo stimolo doloroso cosciente quindi andando a bloccare questa via il paziente non è consapevole del fatto che c'è uno stimolo potenzialmente doloroso e inoltre vanno anche a potenziare le vie inibitorie discendenti cioè quelle vie che dal cervello quindi dalla coscienza vanno verso la periferia e fanno sì che lo stimolo dolori fico venga meno trasmesso anche gli opioidi sono gravati per gli effetti collaterali primo tra tutti è la costipazione questo perché i recettori degli opioidi si trovano anche a livello del tubo gastrointestinale e fanno sì che la motilità del tubo gastrointestinale venga inibita per fare fronte a questo effetto collaterale che compare nella maggior parte dei pazienti vengono associati dei lassativi oppure il nolaxone che è un antagonista degli opioidi cioè una molecola che ha un'azione esattamente contraria a quella degli opioidi ma che rimane solamente a livello del sistema digerente per cui l'effetto collaterale viene meno ma l'azione a livello del sistema nervoso centrale degli opioidi viene mantenuta un altro effetto collaterale è la sonnolenza che però solitamente passa nel giro di qualche giorno per cui non è un effetto collaterale particolarmente gravoso bisogna ovviamente fare attenzione a mettersi alla guida di macchinario fare altre attività che richiedano una certa concentrazione un altro effetto collaterale è la depressione respiratoria che però è dose dipendente per cui i dosaggi terapeutici non dovrebbe sorgere la secchezza delle fauci è un effetto collaterale che per il paziente può essere molto fastidioso ma non è un diciamo pericoloso e tra l'altro risponde molto bene a un farmaco detto pilocarpina gli ultimi due effetti collaterali invece sono quelli da prendere assolutamente in considerazione che sono la tolleranza e la dipendenza la tolleranza è quel fenomeno per cui dopo un utilizzo cronico di una sostanza farmacologica è necessario aumentare la dose per ottenere lo stesso effetto terapeutico e questo ovviamente predispone a un'insorgenza maggiore degli effetti collaterali per fare fronte a questo rischio si usa la rotazione cioè si usano delle molecole diverse a rotazione appunto per far sì che il paziente non si abitui mai a un solo tipo di molecola per fare in modo che questo effetto collaterale appunto non si presenti la dipendenza è un effetto collaterale che ha due dimensioni cioè quella fisica e quella psicologica la dipendenza fisica per dipendenza fisica si intende l'insorgenza di effetti di effetti opposti a quelli provocati dai farmaci al momento della sospensione del farmaco quindi un paziente che sospende di colpo gli opioidi può andare incontro per esempio ad agitazione a irritabilità a dolori addominali nausea a febbre a ipersudorazione proprio per questo motivo la dipendenza fisica spesso si trasforma è dipendenza psicologica che è invece un comportamento compulsivo che porta il paziente a cercare di ottenere il farmaco purtroppo è molto difficile riuscire a individuare quali saranno i pazienti che andranno incontro a questi effetti collaterali ovviamente tenuto in considerazione se il paziente ha dei precedenti per esempio di dipendenza da sostanze d'abuso oppure particolari malattie psichiatriche però ad oggi l'unico modo per cercare di contenere questo effetto è la sorveglianza stretta del paziente cioè il paziente deve essere disposto a farsi vedere spesso dal medico per controllare insomma l'andamento della terapia questa è una rapida carrellata di gli opioidi più usati in alto quelli deboli quindi quelli del secondo gradino e in basso quelli forti questo solo per dire che c'è una serie abbastanza ampia di molecole a cui si può ricorrere proprio per andare incontro a quel concetto di medicina personalizzata di cui parlavo prima bisogna quindi tenere in considerazione le specificità di tutte queste varie molecole per esempio la codeina ha anche un effetto antitussivo cioè combatte la tosse e può essere utile in certe occasioni mentre invece il tramadolo oltre all'effetto analgesico ha anche un'azione antidepressiva e quindi anche questa cosa può essere utile per controllare ulteriormente dolore da un altro punto di vista tra gli opioidi forti nomino la morfina e lo sicodone che sono quelli più forti in assoluto ma anche il fentanil che ha la caratteristica di essere liposolubile cioè di passare attraverso la cute questo fa sì che si possa utilizzare anche sotto forma di cerotto che è una via abbastanza comoda perché il paziente può cambiare autonomamente il cerotto al suo domicilio e inoltre per esempio un paziente che prova dolore che sta facendo una terapia una chemioterapia che provoca nausea e vomito e quindi non può assumere farmaci per via orale li può così assumere attraverso una via transnermica cioè attraverso la cute inoltre il fentanil si può utilizzare anche per via transmucosale cioè attraverso le mucose per esempio della bocca qui viene assorbito molto velocemente quindi ha un ruolo molto importante nel combattere il dolore episodico intenso cioè quegli episodi di dolore molto forte che ha il paziente oncologico di cui parlavo prima questo per quanto riguarda appunto specialmente il dolore nocicettivo il dolore neuropatico si avvale anche di altri tipi di farmaci oltre agli opioidi e ai fans che sono gli antidepressivi gli anticonvulsivanti cioè gli antiepilettici gli antidepressivi infatti oltre ad agire in parte sugli stessi recettori opioidi che abbiamo visto adesso vanno a potenziare le vie inibitorie discendenti e inoltre hanno un ruolo anche per quanto riguarda ovviamente tutta la componente psichica del dolore mentre invece gli antiepilettici sono farmaci che vanno a inibire proprio per loro funzionati per andare a inibire la scarica dei neuroni quindi per spegnere i neuroni se i neuroni sono la causa del dolore ovviamente spegnendoli si avrà una riduzione del dolore la nuova frontiera della terapia del dolore sono i cannabinoidi anche se è un argomento ancora controverso i cannabinoidi sono delle molecole che sono sia sintetizzate dal nostro corpo sia si trovano in natura diciamo gli endocannabinoidi cioè quelli sintetizzati dal nostro organismo vanno ad agire sia con recettori propri cioè il CB1 il CB2 ma vanno anche a interferire per esempio con i recettori degli opioidi che abbiamo visto fino ad adesso il tetraidrocannabinolo invece è il principio attivo che si trova nella cannabis attiva ed è quello utilizzato ad oggi nelle terapie farmacologiche a base di cannabinoidi quello più utilizzato esso ha molte potenzialità infatti ha proprietà antidolorifiche è antinausea quindi spesso viene utilizzato anche per controllo nausea da chemioterapia questo non in Italia però antiemetti che quindi combattono il vomito e vengono utilizzate anche per esempio per combattere l'inappetenza dovuta all'HIV in Emilia Romagna questo perché diciamo è la regione che legifera in materia di prescrivibilità di questo tipo di farmaci quindi noi parliamo adesso dell'Emilia Romagna in Emilia Romagna i cannabinoidi sono prescrivibili in due casi cioè nel dolore associato a spasticità nei pazienti con scalosi multipla è un'intensità dolorifica superiore a 5 secondo la scala numerica e il dolore neuropattico superiore a 5 nella scala numerica questo solo qualora i trattamenti convenzionali che sono quelli di cui ho parlato fino adesso non abbiano sortito effetto in realtà i cannabinoidi possono essere prescritti anche in altri casi off level si dice ma non sono rimborsati dal servizio sanitario nazionale cioè questi sono gli unici due casi in cui il servizio sanitario nazionale rimborsa questi farmaci passiamo all'ultima parte della conferenza che è quella che riguarda la regolazione centrale della percezione dolorifica tutto è nato da una intuizione da un'osservazione che il professor Beecher dell'università di Harvard ha fatto in particolare va notato come i soggetti che avevano preso parte alla seconda guerra mondiale durante il conflitto anche quando venivano feriti in realtà non percepivano dolore una volta tornati a casa invece avvertivano avvertivano dolore quindi si era chiesto e qui ha iniziato a interrogarsi su come il contesto e lo stato psicologico in cui si trova il soggetto vada a regolare la percezione del dolore ed è stato così dimostrato da numerosissimi studi che il contesto e lo stato psicologico vada ad agire e a influenzare quello che è il rilascio degli opioidi endogeni quindi in base anche alle circostanze in cui il soggetto si trova possono essere rilasciati più o meno opioidi endogeni questo è stato visto nel modello animale in particolare topini che avevano provavano dolore ma messi in condizioni in cui potevano distrarsi quindi ad esempio in presenza di una ruota di giochini vari la percezione dolorifica era attenuata cosa che invece non si verificava quando le gabbie erano vuote e questo è stato dimostrato anche nell'uomo e quindi numerosi studi hanno confermato che ascoltare musica piacevole essere in un contesto dove ci sono distrazioni essere messi a proprio agio ma anche avere delle aspettative o essere appunto attenzione nel senso come la distrazione dallo stato dolorifico determini un vero e proprio effetto placebo e quindi vada a promuovere il rilascio degli opioidi endogeni un altro aspetto di cui penso sia interessante parlare è l'empatia l'empatia deriva dal greco empatis soffrire insieme e in questo contesto ha proprio la sua accezione letterale soffrire insieme ma il professor Rizzolatti ha scoperto l'esistenza dei neuroni specchio convolti in numerose funzioni in particolare quella dell'empatia e nell'ambito della percezione dolorifica questo spiega perché ci si immedesima e si in un qualche modo rivivono le esperienze dolorifiche vissute da un altro che ci può raccontare ci può descrivere possiamo vedere un altro soffrire questo però questo va a attivare proprio le stesse aree che si attivano in presenza di uno stimolo dolorifico vero e proprio la sensibilità e l'attivazione la capacità di risposta dei neuroni specchio però varia è chiaro che si ha un'empatia maggiore quando si ha un alto grado di relazione col soggetto coinvolto quindi una mamma che vede il proprio figlio è chiaro che ha un'empatia superiore ed è stato dimostrato che le donne sono più empatiche a tal proposito voglio una parentesi ci concentriamo un attimo sulla percezione del dolore nei due sessi soffrono allo stesso modo uomini e donne ci sono delle differenze e queste differenze non sono solo dettate come dalla vignetta nel fatto che un uomo con 37,2 è prossimo alla morte ma è stato dimostrato che ci sono diversi fattori che vanno a determinare una differente percezione dolorifica questo è fronte di patologie che sono ci sono delle malattie che provocano dolore cronico e sono sesso specifiche proprio dettate da funzioni anatomiche cioè nel senso una donna di prostatite non soffrirà mai però per quanto riguarda quelle malattie che sono comuni nei due sessi il ruolo degli ormoni è centrale ed è stato infatti dimostrato che le donne nel periodo premestruale e mestruale sono più sensibili al dolore hanno una maggiore sensibilità dolorifica quindi questo per sottolineare il ruolo degli estrogeni e degli ormoni ma anche se ha una differente concentrazione di quelle molecole implicate nella trasmissione e nell'inibizione del dolore oltre al background genetico questo vuol dire che XX è diverso da XY quindi c'è una diversa regolazione ma un aspetto centrale e fondamentale è che sia è stata dimostrata è stata rilevata anche una differente risposta ai trattamenti e quindi ad esempio le donne sono dimostrate essere più risponsive alla morfina rispetto agli uomini cosa che invece non avviene con altri farmaci e questo è importante è importante da valutare a fronte di una terapia personalizzata a cui si mira e quindi occorre tenere in considerazione tutti questi aspetti quindi in futuro si punta a una terapia e quindi in questo caso nell'ambito della terapia del dolore ad analgesici sesso specifici questo però richiede che sia a livello clinico che a livello preclinico si includano anche animali e soggetti di sesso femminile perché la ricerca sia a livello sperimentale preclinico che clinico è molto incentrata su animali maschi e soggetti di sesso maschile questo nell'uomo trova implicazione nel fatto che sperimentare un farmaco su una donna soprattutto in età fertile può avere delle implicazioni di vario genere infatti una donna in età fertile può avere dei figli se rimane incinta non è moralmente accettabile che assuma un farmaco oltretutto in via di approvazione quindi di cui non si conoscono neanche gli effetti però appunto la ricerca si sta muovendo proprio ed è incentrata a personalizzare la terapia e quindi anche le differenze sesso specifiche hanno un ruolo centrale per concludere diciamo che per impostare un'adeguata terapia del dolore abbiamo vari strumenti il paziente la persona deve rimanere al centro con tutte le sue possibili differenze a partire dal sesso di cui abbiamo parlato prima ma anche vari altre variabili come per esempio la risposta ai farmaci l'insorgenza di specifici effetti collaterali o anche il background socio-culturale tutti gli strumenti che abbiamo a nostra disposizione sono qua sintetizzati da un lato abbiamo i farmaci tutta quella grande variabilità di molecole di cui abbiamo parlato prima e con le loro diverse vie di somministrazioni da una parte abbiamo anche la psicoterapia che qua non abbiamo approfondito perché non è il nostro campo ma che comunque ha un ruolo centrale dall'altro anche la conoscenza scientifica ovviamente conoscere sempre di più sull'argomento sulle vie di trasmissione del dolore sulle sue cause fa sì che la terapia possa essere sempre più appropriata in futuro in ultima analisi anche il ruolo del medico che deve fare propria quella rivoluzione culturale di cui parlavo prima quindi non dare più il dolore per scontato ma trattarlo come una vera e propria malattia e l'instaurarsi dell'alleanza terapeutica che è una condizione indispensabile specialmente per il trattamento di una terapia di una malattia cronica per cui il paziente e il medico devono diciamo vedersi più o meno spesso e quindi questo è quanto noi abbiamo finito grazie per l'attenzione complimenti a Veronica e Silvia ora se ci sono domande è il momento giusto sì tutto perché comunque le implicazioni che ci sono vanno considerate nella totalità dei farmici quindi sia per tutti i gradini della scala diciamo che comunque adesso è difficile allo stato attuale delle cose dire se un farmaco nello specifico ha un effetto diverso nell'uomo o nella donna proprio perché fino a questo momento la sperimentazione clinica è sempre stata fatta quasi solo sui maschi per cui tutti i farmaci che noi troviamo in farmacia sono in realtà farmaci pensati per gli uomini e mai per le donne tranne i farmaci magari non so legati patologie della gravidanza in cui è indispensabile ovviamente provarli su donne però quello che sappiamo adesso è che i farmaci sono pensati per gli uomini che funzionino anche per le donne è un dato empirico che si impara dopo però è difficile che un farmaco sia pensato specificatamente sulla donna allo stato attuale delle cose è la medicina di genere che è una medicina del futuro sulla paziente specifico quella appunto è sempre la medicina del futuro è quella a cui si sta cercando di puntare poi ovviamente una sperimentazione di un farmaco richiede un certo numero di persone su cui testarlo che devono essere in qualche modo omologate però più farmaci ci sono più molecole ci sono più è facile andare a poi a calibrare sulle specifiche esigenze di un paziente il farmaco più giusto oltre a un'altra oltre a un'altra Ok, allora da un punto di vista anche storico si sta acquisendo sempre di più una maggiore sensibilità a quelle che sono le tematiche che riguardano la sperimentazione tant'è che negli ultimi anni ci siamo incentrati molto, nel caso del sistema nervoso questo è più complesso però sono infattibile sui modelli invertebrati che anche a livello, se la vogliamo mettere sul piano giuridico non sono regolamentati da un decreto, c'è un decreto che è il decreto del 4 marzo del 2014 che regolamenta la sperimentazione su animali, specificamente mammiferi e quindi primati non umani includendo i cefalopo di vivi, ma quello è un'altra cosa è chiaro, si sta acquisendo una sensibilità sempre maggiore e io credo anche che in un futuro si arriverà a sostituire un futuro che al momento è lontano ma appunto quello a cui si punta sempre appellandosi alla regola delle TRAR allo stesso tempo, allora specifico che io non posso sacrificare l'animale in sé perché appunto c'è dietro un percorso di formazione, la mia prof è che qua può confermare c'è tanto lavoro e ci vogliono proprio dei documenti attestati che consentono la sperimentazione però è vivo, cioè nel senso i dati che si ottengono sono stati ottenuti è chiaro che non è piacevole, penso che nessuno dica wow che bello adesso facciamo questa cosa al momento è necessario, però non è che in nome di questa necessarietà si debba stare lì aspettare e farne un uso indistinto, quindi cercare comunque sempre delle altre soluzioni nell'ambito della ricerca a livello del sistema nervoso stanno acquisendo grande valore gli studi fatti di neuroimaging, cioè studiare attraverso tecnico come la risonanza magnetica funzionale comunque con numerose tecniche il cervello, quindi quale aree si attivano senza ricorre questo al momento sostiene, non sostituisce completamente ma penso proprio che penso e auspico che si possa arrivare a fare qualcosa di più, che sostituisse Magari Sì, sicuramente i test genetici sono fondamentali, cioè alla base anche della, la base della farmacogenetica farmacogenomica, studiare appunto come il background genetico vada a condizionare una risposta farmacologica. Ci sono anche dei modelli che consentono di fare delle previsioni, delle simulazioni a livello informatico. Da qui è chiaro che questo è una base, non è la macchina ma fornisce un risultato, poi c'è un gap, c'è un valore probabilistico che può dare, che indirizza o meno una risposta, poi è chiaro che c'è sempre la legge di Murphy che predomina quello. Fino a che punto la medicina orientale e molte tecniche orientali sono sono incentrate proprio su questo, sullo yoga ma anche su proprio, anche sull'ipnosi, sono stati fatti diversi studi e questo aiuta. È chiaro che ci sono delle tecniche che sono prendendo sempre più piede perché il proprio, il contesto, lo stato psicologico va a condizionare la risposta. Fino a che punto? Io non te lo so dire. è anche molto soggettivo, come tutto poi d'altronde, quindi anche a parità di una stessa condizione patologica e a parità di trattamento i soggetti rispondono in maniera differente. Vuoi per una questione di background genetico, vuoi per tantissimi fattori, malattie concomitanti, quindi questo è molto difficile sia da prevedere e quindi anche da prendere come assunto generale. Comunque sì, diciamo che le basi neurofisiologiche per un controllo da parte del cervello, dell'esperienza dolorifica ci sono. Poi sono vie che andrebbero anche allenate da parte del paziente, però diciamo la base scientifica ci sarebbe. Poi ovviamente dirti esattamente a che livello di dolore si può arrivare, non te lo saprei dire, però sì, la via di trasmissione sono quelle vie inibitori discendenti di cui parlavamo prima. Se non ci sono altre domande, per ricordarvi l'incontro della settimana prossima chiamo un attimo una delle due voci della prossima conferenza, che è Filippo Rossignoli, dai gameti alle staminali, la medicina del ventunesimo secolo, se vuoi anticiparci qualcosa. Buonasera. Allora, la settimana prossima appunto parleremo della medicina del ventunesimo secolo. Cosa abbiamo voluto dire con questo? Che è una medicina del futuro ma che in realtà comincia già ad essersi adesso e che differenza ha con la medicina di adesso? Che i farmaci, tra virgolette, del futuro non sono semplici molecole ma sono intere cellule. E quindi parleremo appunto di gameti e di cellule staminali per vedere come vengono usate, modificate per curare le varie tipi di patologie, dalle patologie riguardanti l'infertilità a quelle alla medicina rigenerativa, la terapia genica, insomma le nuove frontiere della medicina. Quindi spero di avervi messo un po' di curiosità. Ci vediamo la settimana prossima. Perfetto. Grazie mille, grazie ancora Veronica e Silvia e ci vediamo mercoledì.